Ciao a tutti, in questo breve video volevo velocemente farvi vedere la mia pouch elettronica la pouch stessa non mi ricordo come si chiama, l'ho trovata su Amazon e se mi ricordo metterò il link nella descrizione qui nella tasca davanti tengo due penne, una è una penna e l'altra è una matita poi qui davanti ho un power bank da 5200 mAh aprendo la pouch tengo tutti i diversi cavi che tornano sempre utili micro usb, mini usb non mi ricordo come si chiama il cavo per attaccare una usb al tablet tramite la mini o micro usb caricatore per cellulari con con l'attacco per presa usb poi tengo delle pile, due pile AA non ricaricabili e poi quattro pile AA, queste si sono ricaricabili un accendisigari, una per presa accendisigari da macchina con l'attacco usb e tre batterie AAA ricaricabili niente questa è la mia presentazione della mia pouch elettronica un abbraccio e a presto grazie